Ero salito in montagna per prendere un po' d'aria e mi sono messo a camminare nel bosco, in un bel bosco di aventi. E cammino, cammino a un certo punto. Vedo un sentiero sulla sinistra e lo prendo e giro. Appena svolto, chi mi trovo di fronte? Chi? L'orso bruno. Con gli occhi che mi guardava diretto a impressionarmi con una capoccia. Oddio. Oddio. Ma che hai fatto te? Ecco, così mi sono salvato io. E così dovevo fare perché lui vede dove arrivano le mani e pensa che sei grosso in quel modo. Ma scusa, perché l'orso non vede bene? Per fortuna ti vede malissimo. Lui vedeva le mie mani e quando ha capito che ero grosso si è girato e se n'è andato. Ma scusa, tu come facevi a sapere questa cosa delle mani che l'orso le segue e pensa che tu sei no? Una della forestale a Lucerna in un bar. Non è vero che a bar si perde tempo. Il bar salva la vita. Evviva!